Sopra ogni ostacolo. Con una cerimonia ufficiale svoltasi nella sala consigliare del comune di Gualdotadino, l'amministrazione comunale ha voluto salutare l'atleta gualdese Veronica Rossi, che parteciperà dal 14 al 21 marzo ai giochi mondiali estivi Special Olympics di Abu Dhabi 2019, gareggiando nelle specialità dei 100 e 200 metri piani e con ogni probabilità anche nella staffetta. Parliamo della principale kermesse internazionale riservata alle persone con disabilità intellettiva e nel caso specifico gli Emirati Arabi ospiteranno 7.000 atleti provenienti da 170 paesi che si incontreranno per confrontarsi in 22 discipline e dimostrare le proprie abilità. Veronica, velocista di spicco dell'atletica Tarsina e unica Umbra della spedizione azzurra, proverà così a tenere alto nel globo il nome di Gualdotadino e per questo l'atleta ha ricevuto tramite assegno simbolico la donazione raccolta per sostenere l'iniziativa Adotta un campione, promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'azienda di comunicazione Smartcom, oltre a contributi extra arrivati dalla generosità di altre fociazioni e di privati cittadini, un connubio solidale e lodevole variegato che ha portato a superare ampiamente l'obiettivo prefissato di oltre 2.000 euro di raccolta fondi per l'iniziativa che fornirà così un valido contributo al fine di coprire parte delle spese della trasferta in Medio Oriente. La delegazione italiana sarà peraltro presentata ufficialmente a Roma il 7 marzo all'ora 10 presso il Salone d'Onore del CONI, cerimonia dove l'atleta gualdese sarà accompagnata tra gli altri anche dal sindaco di Gualdotadino Massimiliano Presciutti. Veronica è pronta a correre per continuare a superare quell'avversità che lo sport, come la vita, gli frappone dinanzi sapendo di portare con sé la fiducia, la carica e l'entusiasmo di tutta una città, di tutta una regione e di tutta una nazione. La comunità si è mobilitata per sostenere questo suo sogno e io sono certo che lei farà buone cose anche e soprattutto dal punto di vista sportivo visto che è una velocista. Veronica è una ragazza che nella vita proprio corre sempre, io oltre agli allenamenti che fa la incontro spesso, è una ragazza dinamica che fa tante cose quindi noi siamo molto fiduciosi che possa fare sicuramente un'esperienza indimenticabile perché rappresentare il proprio paese è sempre una cosa bella che non si scorderà per tutta la vita e poi sappiamo che è una grande atleta sicuramente potrà portarci anche qualche risultato sportivo di rilievo, noi ci contiamo molto. Ho iniziato praticamente già dal 20 agosto per allenarmi, ce la metterò tutta innanzitutto e poi sono sette anni che faccio atletica quindi ora sono abituata a correre.